Side Day, evacuazione a sud della quarantatresima, avvisa il pronto intervento! Subito. Udite e gioite! State per morire per mano dei figli di Thanos. Siate grati che le vostre insignificanti vite contribuiscano ora... Mi dispiace, ma la Terra è chiusa oggi. Mi conviene fare i bagagli e andarvene da qui. Custode di Gemma, questo animale chiacchierone parla per te? Certo che no, io parlo per me. Sì, avete sconfinato sia in questa città che in questo pianeta. Vuol dire smamma, Squiddy. Mi sfinisce. Milia. Portami la Gemma. No, sì. Banner, vuoi batterti? No, non proprio, ma tanto non faccio mai quello che voglio. Esatto. Ok. Forza! Quanto tempo. Bello riaverti, amico. Va bene, fammi solo... Devo concentrarmi un momento, andiamo. Andiamo, dai! Andiamo! Andiamo! Dov'è il fusto? Non lo so, abbiamo un po' di problemi. Non c'è tempo per i problemi, è quello il problema. Andiamo! Mi fai fare brutta figura con gli stregoni. Mi dispiace, io non ci riesco, io non vuole lui. Insomma, io non... Riposo. Me lo tieni d'occhio? Grazie. Ci penso io. Grazie. Quello dove l'hai preso? Nanotecnologia. Ti piace? Una cosetta che... Dottor Banner, se il tuo amico verde non si unirà a noi... Porta via subito la gemma. resta qui con me. Esatto. Ciao. Tony, stai bene? Come va? Bene? Male? Molto, molto bene. Molto bene. Intendi darci una mano? Ci sto provando, ma non è... Partello. Avanti, Hulk, che mi stai facendo? Esci, esci, esci. No! Che vuol dire no? Ciao!